Siracusa coronavirus, terzo decesso, un'impiegata di 52 anni della sovrintendenza. Sono a quota 3 i decessi causati dal Covid-19 nel Siracusano. Stamane si è registrata la morte prematura di una donna 52 anni, impiegata amministrativa della sovrintendenza di Siracusa, nell'ambito del Parco archeologico di Siracusa, nell'equipto del direttore Calogero Rizzuto. Silvana Ruggeri era ricoverato dal reparto malattie infettive dell'Umberto I contestualmente al suo direttore. Di Silvana c'è il ricordo di colleghi e amici per il modo di porgersi aperto e solare e disponibile con tutti nel lavoro. Il direttore e la sua collaboratrice hanno sempre lavorato a stretto contatto fino all'ultimo incontro con una delegazione coreana. La donna lavorava al museo regionale Paolo Orso di Siracusa ed era stata assunta da una società partecipata e la regione si occupava di beni culturali. Il nemico invisibile trova terreno fertile nelle persone che non osservano le più elementari norme di sicurezza, ma nel caso della sovrintendenza poteva essere evitato l'incontro con gli asiatici. Nel caso dell'anziano ottantenne di Sortino, deceduto a Caltagirone, sofferente tra l'altro di patologie pregresse. Una situazione insperabilmente strana che inizia a preoccupare la cittadinanza.